Ed è stata ideata da Elika con Fondazione Taperi. Elika è leader del settore della produzione di taper e aspirazione per la cucina. Vogliamo dare un senso di ribaltamento al progetto di cucina come abbiamo sempre visto e vissuto mettendo letteralmente sotto sopra la cucina come la conosciamo. Il cielo dà un maggior senso di libertà sopra le nostre teste in quanto Elika avrebbe fatto una tappa che è all'interno del piano di libertà. Quindi sopra non c'è più niente, è massima di libertà. E vediamo la cucina dopo che vi è diverso. Allora vi asciutare le foto, poi quando avete fatto il piano di libertà...